Il Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito Salerno 8, con Vallo della Lucania come comune capofila, ha erogato pubblicamente tre nuove attività mirate a diverse problematiche sociali. Le attività saranno articolate in servizio di supporto alle famiglie, percorsi di empowerment, tirocini finalizzati all'inclusione sociale. Per i servizi di supporto alle famiglie, il piano di zona Salerno 8, ha emanato un avviso pubblico per la realizzazione del servizio di mamme accoglienti, un progetto rivolto all'individuazione di donne volenterose di erogare servizi integrativi al nido e consistenti nell'accoglienza, oltre il proprio figlio, presso il proprio domicilio di bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi, per una durata di tre ore giornaliere per cinque giorni a settimana, per un totale di sei mesi di attività. I percorsi di empowerment, invece, hanno come finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone che vivono particolari situazioni di svantaggio, attraverso interventi diretti all'acquisizione e al rafforzamento delle competenze di base e professionali e attraverso servizi di orientamento e consulenza per l'inserimento nel mondo del lavoro. I tirocini organizzati dal piano di zona sono destinati a persone in condizioni di grave vulnerabilità economica e sociale o disabili, al fine di favorirne la collocazione o ricollocazione nell'ambito lavorativo. Le tre iniziative sono destinate esclusivamente a soggetti residenti in uno dei comuni appartenenti al territorio del piano di zona Salerno 8 e sarà possibile partecipare ai bandi fino al 31 dicembre. Per maggiori informazioni sulle attività è possibile visitare il sito del piano di zona Salerno 8.